Sono Nicola Mijelovic, il mio nickname è Nick. Sono combattivo. Sono il numero 2 dell'attorno calico volley per tutti i campi. Tenacia. Ciao, sono Domenico Cavaccini, chiamatemi Mimmo, è un lottatore. Santi Orduna, il numero 5, chiamatemi Santi, sono un corazon di leone. Sono Leonardo Carta, per tutti Leo, è sardo. Sono Alessandro Tondo, il vostro numero 7, chiamatemi Ale. Caparvi. Sono Lorenzo Piazza, per gli amici Lollo, disponibile. Sono Matteo Bellia, ho posto numero 10, tutti mi chiamano Ibelli. Buono. Sono Alessio Tallone, per tutti, tallo. Simpaticissimo. Ciao a tutti, sono Ierni Terpini, il numero 12 dell'attorno calico. Sono Solare e tutti mi chiamano JJ o anche Jay. Sono il numero 14, mi chiamano Umbare, Marco Belluomo. Intraprendente. Sono Michele Fedrizi, ma chiamatemi Fritz, competitivo. Ciao, io sono Paolo Pucheca, Santi mi chiama Pucci e io sono un campione.